Notte bianca 2011, possiamo dire che finalmente si apre quella che è l'estate salentina? Questa è una città che vive intensamente anche la sua dimensione turistica tutto l'anno, non soltanto l'estate, quindi anzi quest'anno stavamo pensando addirittura per le edizioni a venire forse di scegliere una data che non fosse tipicamente estiva, perché lei c'è già piena di turisti in questa fase dell'anno in modo particolare, qui magari trovare una formula, farlo ad autunno o all'inizio della primavera può avere un senso particolare, questo per appoggiare la testa giornalizzazione. Devo dire che il successo è stato straordinario anche quest'anno come ce l'aspettavamo, ho visto un'allegria, una voglia di divertirsi diffusa, quindi sono molto soddisfatto. E poi Sindaco, questo è un evento che mette in risalto l'eccellenza del nostro territorio, i gruppi, gli artisti del Salento? Beh sì, perché è giusto che la Notte Bianca di Lecce abbia una connotazione salentina, quindi va bene Beppe Servillo, ma è necessario che ci siano una serie di realtà artistiche nostrane, e io sono contento che si possa dare attraverso la Notte Bianca un'occasione, una visibilità a tantissimi nostri artisti che se no non avrebbero la possibilità di calcare palcoscenici con platee così diffusi. Una vera e propria vetrina poi per i tanti turisti che in questo periodo stanno affollando Lecce? La Notte Bianca è per i turisti e per tutti quelli che vengono a Lecce solo una sera, perché ci sono le strade di accesso praticamente intasate dalle otto, quindi immagino chi viene, ho incontrato dei ragazzi di Taranto, dei ragazzi dei Bari, dei ragazzi che vengono dalla Basilicata, mi hanno fatto i complimenti per questa organizzazione e poi soprattutto la Notte Bianca dei Leccesi, perché ho visto tantissima gente, tantissimi miei concittadini, tantissimi miei amici, chi ha lasciato i figli a casa, chi ha deciso di uscire, cosa che non faceva da tempo, per vivere almeno una notte, la Notte Bianca fino in fondo. Siamo in compagnia di Luigi Coclite, assessore all'attività produttive del Comune di Lecce, allora assessore ritorna a uno degli eventi più attesi qui nel capoluogo salentino, che può diventare davvero un'occasione per promuovere quelle che sono le attività del nostro territorio. Sì, è un momento di festa, sappiamo di chiedere uno sforzo alla città, ai residenti, però è un episodio isolato nel corso dell'anno, però il momento di festa si coniuga con un'esigenza forte oggi delle attività produttive, delle piccole attività produttive, a Lecce non abbiamo le grandi industrie. E l'occasione per consentire ai commercianti di stare aperti fino a tardi, io penso ai bar, alle pasticcerie, ma anche ai negozi di abitiamento, alle piccole rosticcerie, e per cercare non di quadrare i conti, ma di dare una mano per far quadrare i conti. È un'occasione importante, ci sarà un grande movimento che voi già riscontrate, già prima che inizi, la notte è bianca, quindi ci auguriamo che funzioni come ha funzionato l'anno scorso, se non meglio dell'anno scorso, che ci sia una risposta sotto il profilo dell'incremento, dell'introida adeguata, e che sia veramente una festa, che non ci siano incidenti, che i ragazzi non esaggino, perché è un momento comunque di grande aggregazione che dovrebbe rendere felici tutti. Gianni Peila, presidente della SGM di Lecce, per un evento come quello della Notte Bianca, è importante il collegamento tra i vari punti della città, la SGM lo sta offrendo questa notte? Sì, stiamo offrendo e stiamo anticipando, perché abbiamo notato che c'è molta utenza, anche fermo sull'area leccese dei parcheggi di interscambio, in effetti stanno uscendo già i mezzi pubblici, perché dovevano cominciare alle 9.30, ma stanno cominciando tra un quarto d'ora, credo che siano già pronti i mezzi. Ogni 3-4 minuti, salvo traffico che possiamo trovare su Viale Gallipoli, dovrebbero girare i nostri mezzi pubblici, sono 7, credo che possiamo dare un buon servizio fino alle 2 di stanotte a tutta l'utenza che viene alla Notte Bianca. Ecco, quali sono i punti in collegamento? Il collegamento fa dal Carlo Pranzo, che è un parcheggio di interscambio, poi c'è una persona che al foro boario indica di andare al vecchio, vecchia caserma dei vigili urbani per prendere queste navette che fanno il giro di Viale De Pietro, Viale 25 Luglio, Viale Lorè, Viale Gallipoli e scendono giù per l'università. È per quello che ci mettono ben poco tempo per riuscire a fare tutto questo giro qui. Credo che sia una cosa per un servizio nuovo anche in questo periodo, anche da parte dell'assessore Ripa, che anche lui ha dato il suo contributo a fare queste cose qui, e devo dire che anche il nostro direttore è riuscito in questi giorni a perfezionare meglio il servizio. Gianfranco Colella di Conf Commercio Lecce, quanto è importante creare questi eventi per promuovere quello che è il nostro territorio e la produzione del nostro territorio? È indubbiamente una meravigliosa manifestazione che esalta il marketing territoriale della città di Lecce. Indubbiamente. È favolosa anche la scelta di decentrare gli eventi, perché poi di fondo la gente si aspetta eventi, si aspetta cultura, si aspetta eventi musicali. So che peraltro è stato delocalizzato in questo centro commerciale naturale all'aperto, che è Piazza Mazzini, quindi diciamo che così facendo la città è compileta in tutti questi eventi. Ottima è anche la sinergia fatta tra le amministrazioni provinciali e comunali, Camera di Commercio, azienda di promozione e associazioni di categoria dei commercianti. Siamo in compagnia della vicepresidente della provincia di Lecce, Simona Manca. Allora vicepresidente, possiamo dire che con questa notte si dà veramente il via a quella che è l'estate salentina, l'estate leccese? Certo, devo dire che la notte bianca fa da pripista la nostra estate leccese, ma non solo, salentina da oggi iniziano una serie di concerti teatrali, di arte, una serie di appuntamenti con l'arte bellissimi. Credo che un'estate così forse nel Salento non ci sia mai stata, veramente ogni giorno è pieno, sia per i salentini, per i nostri salentini, sia per i turisti, di un appuntamento importante tra l'altro, di un livello alto, di un livello culturale alto, da ascoltare, da vedere, da gustare. Tra l'altro è uno dei pochi eventi che mette in risalto soprattutto i nostri artisti, le nostre eccellenze. Sì, e quando noi parliamo di cultura, di coinvolgimento dei giovani, di territorio, non possiamo non partire dai nostri artisti, anche perché noi siamo diventati, il Salento è diventato il luogo della creatività, il luogo dei creativi, dove davvero i nostri giovani, i nostri artisti hanno il genio, l'estro, in tutti i campi, nella musica, nella danza, nel teatro, siamo pieni di eccellenze. È giusto avere uno sguardo all'esterno, dialogare con realtà esterne, internazionali, nazionali, ma dobbiamo sempre partire dai nostri giovani, anche perché, devo dire, hanno raggiunto un'esperienza, una competenza tale in tutti i campi che bisogna valorizzare. E diciamo, il sostegno da parte delle istituzioni importante in questo periodo, e la provincia di Lecce lo sa, molto delicato, è difficile economicamente per poter promuovere tutti gli eventi, insomma? Questo è un periodo difficile per tutti gli enti. La provincia, certo, si è trovata ad affrontare un periodo, peraltro, eccezionale, quindi non solo di tagli economici a tutti i livelli, ma anche, diciamo, di una situazione straordinaria ed imprevista nella quale non si immaginava di trovare. E quindi, appunto, ha dovuto tagliare molto e molto anche agli eventi, pure tutti importanti sul territorio. Cercheremo, naturalmente, di fare tutto, seppure con risorse limitate, di mantenere i nostri impegni e di continuare a fare cultura, seppure, ovviamente, mettendo a disposizione le risorse, purtroppo, limitate che abbiamo.